Abruzzo primo in Italia per mole pro capite di denaro speso per il gioco d'azzardo. Il poco invidiabile primato emerge dal report elaborato dall'ufficio parlamentare di bilancio che ha quantificato in 1767 euro la spesa pro capite degli abruzzesi in gratte e vinci, sale slot e videolotteri e scommesse online. Dietro all'Abruzzo c'è solo la Lombardia, poi l'Emilia Romagna e il Lazio. La ludopatia è un fenomeno sempre più in crescita, dicono al CERD di Pescara. Sempre più persone infatti si rovinano con quella che è una vera e propria malattia, una dipendenza pari se non superiore a quella degli stupefacenti. E il piacere puro dell'azzardo a muovere i ludopatici, troppo spesso celati sotto vesti di normalità. Questi giocatori patologici quasi sempre non ammettono nemmeno a se stessi di avere un problema. È un problema grandissimo perché è stato ormai acclarato che si tratta di un'emergenza sociale. C'è un problema da parte di tantissime persone. Noi abbiamo già 150 persone in carico per cura da gioco d'azzardo patologico. Il messaggio che ci sentiamo da dare è quello di poter uscire finalmente dalla paura, dalla vergogna e quindi rivolgersi a servizi pubblici. Basta fare una telefonata, chiamare. Da questa patologia si può uscire sicuramente. Non c'è bisogno di prenotazione né al CUP né pagare il ticket. È assolutamente gratuito e quindi informiamo tutte le famiglie, le persone affette da questa patologia di potersi rivolgere a noi.